Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Francesco Anastasi, ho 23 anni e sono un gastronomo. Prima di iniziare sfatiamo questo mito, perché i gastronomi tutti pensano che siamo quelli col bicchiere in mano, del mani e bevi, no. Io sono laureato all'Università di Scienze Gastronomiche, ho studiato il cibo, dall'agricoltura alla storia, all'economia, all'economia politica. Bene, per fare questo intervento mi hanno aiutato tre signori. Il primo si chiama Wendell Berry, che dice mangiare è un atto agricolo. Ora, certe volte, secondo me, ci dimentichiamo quotidianamente che quello che c'è nel nostro piatto deriva direttamente o indirettamente dall'agricoltura e tutto ciò che viene fatto, adoperato alla terra, noi lo introiettiamo. Se chiedessimo a un bambino delle scuole elementari, cosa c'è dentro, da dove viene il prosciutto, il formaggio che c'è dentro la tua merenda, se non sei già passato alle merendine, però... E lui ti risponde, e vabbè, dalla fabbrica del prosciutto, dalla fabbrica del formaggio. Perché non sai che c'è un maiale che ha mangiato qualcosa, che se è stato male ha preso delle medicine, che poi passa a fine carriera, passa miglior vita, diventa prosciutto. O che c'è una mucca che mangia dell'erba, se va bene, che se sta male prende delle medicine. E per avere latte, 365 giorni l'anno, dobbiamo operare uno stress agli ormoni per avere sempre latte, sempre latte, sempre latte. Che peraltro, ormai il latte, al di là che viene pagato 20 centesimi al litro, ma spesso è meglio mangiare il cartone, che ha più proteine del latte, perché quello che troviamo nei supermercati ormai è deodorato, scremato, perché poi la panna serve a fare i biscotti. Secondo signore, si chiama Davide Breton e dice, il cibo è il sapore del mondo perché è il sapere del mondo. Il connubio fra agricoltura e cultura. In una parola per me è la biodiversità. Ma cos'è la biodiversità? Parliamoci che la biodiversità sono tutte queste specie viventi nel mondo che sono nella terra e che formano degli ecosistemi. È come quando abbiamo la torre e noi togliamo i tasselli. Ogni tanto ne scartiamo qualcuna perché ruba spazio a qualcos'altro. Bene, negli ultimi cento anni abbiamo verso il 70% della biodiversità. Di 2.500 pere che si coltivavano negli Stati Uniti, due coprono il 98% del mercato. Di 30.000 specie commestibili, noi ne usiamo 30.000. E 5.600 fanno il 60% del fabbisogno. Ora, degli scienziati inglesi sono arrivati a dire che questa è la sesta estinzione di massa che avviene su questo pianeta. E la quinta, vi assicuro che non erano le boy band degli anni 2000, ma 56 milioni di anni fa erano i dinosauri. Ora, il problema è chi deve difendere la biodiversità? La biodiversità è importante. Noi non ce ne rendiamo loro. La biodiversità è veramente importante. Ma chi la difende la biodiversità? Bene, c'è un terzo signore che mi ha cambiato molto, che si chiama Joseph Chizerbo. È il più importante storico d'Africa. Io lavoro per Slow Food e seguo un progetto sull'Africa. Questo signore cita in un suo libro un proverbio in lingua bambara e dice Egli sa nuotare, sa cacciare, sa andare a cavallo, ma più di tutto egli conosce se stesso. L'augurio più bello che si possa fare a una persona in lingua bambara è ti auguro di ritrovare te stesso. Forse noi dovremmo ritrovare noi stessi. Forse l'esposizione universale doveva essere motivo per ritrovare noi stessi. Bene, come un tema ben fatto, io ho fatto una premessa, ho fatto una critica, ho fatto capire qual è il problema, però critica pur parlè non va bene. Vi dico la proposta. Dal 3 al 6 di ottobre di quest'anno a Milano abbiamo chiamato la rete di Terra Madre, che è una rete di contadini da 160 paesi del mondo, che si riuniscono ogni due anni durante il Salone e il Gusto a Torino, li abbiamo chiamati in via straordinaria per venire a Milano, fuori Expo, a far sentire la voce di chi realmente nutre il pianeta. Abbiamo chiamato Terra Madre Giovani, We Feed the Planet, perché loro possono dirlo, We Feed the Planet, noi diamo da mangiare al pianeta. Sarà un Terra Madre Giovani, perché queste sono le persone che sono il futuro del cibo, sono le persone che danno da mangiare alle persone, a tutti noi. Vi dico due dati, veloci veloci. Ci sono più di 500 milioni di aziende agricole familiari. Sono il 98% delle proprietà agricole nel mondo, producono il 56% dei prodotti agroalimentari. Certe volte siamo convinti che ci sono solo quei due che hanno citato prima, solo quei due che no, ci sono e sono quelli che si vedono di più, ma ci sono tanti altri nel mondo che difendono la biodiversità, che portano avanti, che difendono i semi. Quando noi parliamo e ripetiamo una stessa cosa tante volte, questa cosa perde di valore. Bene, Expo 2015, Feed the Planet, Energy for Life, nutrire il pianeta, energia per la vita. Bene, quindi le melenzane della caponata sono energia. Le melenzane, le carote, le pomodoro, sono energia che noi introiettiamo. Siamo entrati da quattro anni dentro una crisi entropica per un piccolo problema, perché per produrre quelle melenzane che ci danno 100 di energia, noi ne usiamo 400. Passa un anno, passano due anni, passano 20 anni, entriamo nella crisi entropica. Come si esce dalla crisi entropica? Cambiando modello. Si esce cambiando modello. C'è ancora chi ce la suona e ce la canta del cambiamento che arriverà a questa crescita? Aspettiamo la crescita. Io me la ricordo, forse ero piccolo così, la crescita, ma aspettiamo la crescita. Per non parlare di quanto sprechiamo. Produciamo per 12 miliardi di persone. Per 12 miliardi di persone. Il 30% dei frutti biologici vanno nel compost perché nessuno li vuole. Forse dobbiamo pensarci bene che forse stiamo realmente sprecando un po' troppo. Bene, io vi voglio lasciare con un augurio. Intanto di darci una mano, di partecipare, di mettere idee. È aperto a tutte le associazioni. Expo dei Popoli ci darà una grossa mano per questo Terra Madre Giovani, perché questi ragazzi dall'Africa, dal Sud America, dalla Thailandia verranno a Milano, ospitati dalle famiglie milanesi. Abbiamo contattato tutti, anche il Cardinale Scola. Tutti. Abbiamo mobilitato tutti. Perché pochi, andare col cappello no, ma tanti, a mettere poco, facciamo venire 3-4 mila contadini da tutto il mondo a parlare di cose vere, a parlare dei mestieri, a parlare di politica, a parlare di cibo. Quindi io vi lascio con un augurio che quello che è la nostra terra, che è la nostra nazione, che noi stessi possiamo ritrovare, scusate il giro di parole, possiamo ritrovare noi stessi. Grazie, diffondendo il messaggio, grazie al lento contagio dell'esempio. Non dimentichiamo, per me sono parole di contagio, lento contagio dell'esempio. Come ha detto Papa Francesco qualche giorno fa, la terra non è eredità dei nostri padri, ma è un prestito dei nostri figli. Grazie mille.